Edizione straordinaria Il bollettino parla chiaro su gran parte dell'arco alpino Il rosso del pericolo 4, forte sulla scala di 5 4, 5, 4, 4, 5 Per fortuna quindi non ci sono conseguenze né feriti né vittime Vittime veramente la soddisfazione Ho detto alla casa no Giusto ma te non mi sono stati ma no La malonia del lago l'ha fatto male Dai 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 Continua a illudere Fatti schiappettare anche noi Grazie 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 Grazie